Con le accuse di concussione e violenza sessuale, il GIP di Lanciano Massimo Canosa ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di BB 54 anni, agente di polizia al commissariato di Lanciano, responsabile dell'ufficio amministrativo che si occupa del rilascio dei permessi di soggiorno. Il provvedimento cautelare è stato chiesto dal PM Anna Benigni, a seguito di indagini avviate quattro mesi fa e non ancora concluse. I dettagli sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa convocata in procura dal procuratore di Lanciano, Francesco Menditto. La vittima sarebbe una quarantenne sudamericana, la quale ha denunciato di essere stata costretta a fornire prestazioni sessuali al poliziotto, poiché avrebbe ritardato, se non bloccato, le pratiche per il rilascio del permesso di soggiorno. I due episodi di abusi sarebbero avvenuti nei mesi di marzo e settembre 2013 all'interno di una casa di Lanciano. La procura prosegue l'indagine per accertare se ci sono altri stranieri sottoposti ad altri episodi di pressione psicologica. Nel corso della conferenza stampa il procuratore Menditto ha parlato di vittima vulnerabile. È una brutta ferita, ha commentato, ma ribadisco, ha detto alla stampa, la piena fiducia nei confronti della Polizia di Stato. Un episodio brutto vale il principio di non colpevolezza costituzionale, quindi ci sarà un processo che accertere i fatti. Per ora il giudice delle indagini preliminari ha ritenuto che la procura avesse ragione, quindi è stata emessa questa misura cautelare agli arresti domiciliari per due brutti episodi di concussione. In sostanza una donna immigrata che aveva diritto ad avere il permesso di soggiorno l'ha tenuto solo dopo che ha dato delle prestazioni sessuali che le sono state imposte secondo la prospettiva della procura. Questo appartenente alla Polizia di Stato. Un brutto episodio in cui emerge la vulnerabilità di queste persone, la paura e quindi il cedere di fronte a queste situazioni e la paura di denunciare. Ecco, se posso dire una cosa è necessario denunciare. È un fatto grave, ripeto, secondo la prospettazione della procura, perché ovviamente è un appartenente delle istituzioni che va a violare la legge e noi dobbiamo rispettarla più degli altri. Secondo va a colpire una persona vulnerabile, cioè una persona che chiede un permesso di soggiorno e che è un immigrato, quindi in una situazione di debolezza, che aveva diritto ad avere il permesso. Terzo, una persona ancora più vulnerabile, una persona vulnerabile viene colpita proprio nella sua intimità. Non vengono chiesti soldi e già sarebbe gravissimo per una cosa del genere o altre cose, ma una prestazione sessuale, quindi la violazione del corpo della donna, che è una cosa veramente inaccettabile, inqualificabile. L'indagine è stata condotta dalla squadra mobile della Questura di Chieti, diretta da Francesco Costantini e dagli agenti del commissariato di Lanciano, diretti dal nuovo dirigente Francesco Lagrasta. I difensori del Poliziotto, gli avvocati Luca Scaricacciottoli e Giacomo Nicolucci sostengono che è tutta una montatura, le accuse sono prive di ogni fondamento. Ci sorprende, hanno poi dichiarato questa mattina i cronisti incontrati fuori dal tribunale, il clamore mediatico conferito alla notizia, a indagini non ancora concluse. Va tutto provato, il nostro assistito, hanno spiegato, lavorava solo parte delle pratiche e non era lui a rilasciare materialmente i permessi di soggiorno. Pare inoltre assurdo, hanno detto che la denuncia sia stata fatta solo pochi mesi fa, quando i fatti contestati al Poliziotto si riferiscono a circa due anni addietro. Il difensore è ben saputo.